ciao e benvenuto a questo video tamburisolutivo numero 7 allora il post è chiaro basta basta e ancora basta non se ne può più di essere circondati da tutto quello che ci rema contro è ora di smetterla è ora di prendere in mano la propria vita e dire basta non è possibile che dobbiamo essere dipendenti dagli altri ascoltatori degli altri mettici tu quello che vuoi veramente non se ne può più non possiamo dipendere dagli altri soprattutto non possiamo dipendere dalla realtà degli altri perché se noi siamo convinti di quello che diciamo di quello che facciamo di quello che vogliamo essere in primis di quello che vogliamo essere non c'è realtà altrui che tenga non ci sono veramente ostacoli non ci sono non c'è niente niente non deve esserci nulla che ti deve ostacolare sotto questo punto di vista perché sei tu che decidi di prendere in mano la tua vita tu sei consapevole cavolo ma diventi consapevole che la tua vita e la tua la tua di te non c'è un'altra possibilità non abbiamo una seconda vita devi essere deciso ora oggi in questo preciso momento devi cambiare la tua vita e per cambiare la tua vita devi cambiare la tua testa la tua testa deve avere la tua realtà devi essere consapevole della tua realtà che è la tua la tua e quindi non deve essere quella degli altri deve essere la tua personale originale unica non deve esserci la realtà di qualcun altro non deve esserci il parlare di qualcun altro non deve esserci il bla 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 di qualcun altro che vuole inculcarti qualcosa che non è tuo non è tuo non fa parte di te non fa parte della tua vita non fa parte della tua personalità non fa parte del tuo modo di pensare non fa parte della tua realtà quindi veramente basta dobbiamo assolutamente dare un taglio a tutto ciò che è vecchio a tutto ciò ripeto che ci rema contro perché non è detto che quello che facciamo noi sia poi così sbagliato è sbagliato agli occhi degli altri quindi basta essere dei burattini basta essere delle pecorelle basta essere comunque un qualcuno che si lascia trasportare dalla corrente e cavolo e allora la nostra dignità di persone pensanti dov'è qual è dove finita un po di orgoglio mannaggia ma non dire altro un po di orgoglio por caccia miseria cerchiamo di essere persone che decidono e soprattutto quando decidono dritti verso la meta vai come un treno veloce non ci devono essere ostacoli in mezzo non devono esserci sugli imprevisti purtroppo non possiamo fare nulla dobbiamo prevederli o comunque dobbiamo essere pronti anche ad affrontare quello ma al massimo possiamo rallentare di un pochettino ma non dobbiamo fermarci non dobbiamo fermarci mai perché veramente adesso oggi in questo preciso momento che tu stai guardando il video è arrivato il momento e mai questo video è perfettamente in linea con le presunte se tu sei a casa vacanze natalizie dove tu puoi avere un po di tempo per pensarci per dire ma porca miseria ma alla fine la vita è la mia devo decidere io di quello che devo fare o meglio di quello che voglio fare ma lo voglio perché lo voglio io e non perché gli altri ti hanno detto oddio come ho detto in un video precedente ci sono persone che ti danno delle motivazioni intelligenti sul perché ti dicono rifletti non rifletti e quindi per quello dico magari puoi rallentare ma non puoi fermarti non puoi fermarti se il tuo obiettivo per questo magari anno nuovo che arriva e questo di fare una determinata cosa la devi fare la devi fare noi chitarrissi abbiamo poi come dire i nostri bravi problemucci da chi deve imparare a suonare a chi deve salire su un palco a chi vuole formare una band a chi vuole costruire che ne so una casa discografica a chi vuole cominciare a scrivere le proprie canzoni tutto tutto ciò che noi vogliamo fare dobbiamo farlo lo dobbiamo fare perché noi ci crediamo perché noi siamo folli da pensare di poterlo fare e allora basta non esistono ostacoli non devono esserci cose situazioni persone che ci bloccano quindi ti auguro veramente di pensarci ma non troppo nel senso di essere reattivo subito subito dopo questo video che ti aiuti veramente a prendere in mano la tua vita e dire ok basta adesso decido io ciao grazie a tutti grazie a tutti